Viriuk 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 monti sul guardaboschi Biriuk che tutti i contadini dei dintorni temevano come il fuoco. A detta loro non era ancora esistito al mondo uno che sapesse il fatto suo come lui. Non ti lascia portare via un fascio di sterpi. In qualsiasi momento, fosse anche a mezzanotte in punto, ti capita addosso come la neve in testa e non c'è da pensare a far resistenza. È forte e agile come il diavolo. E non lo si può ammansire con nulla, né col vino né con denaro. Non abbocca nessun amo. Già più di una volta della brava gente ha pensato a levarlo di mezzo, ma lui niente, non si lascia cogliere. Ecco come si esprimevano su Biriuk i contadini dei dintorni. Dunque tu sei Biriuk, ripetei io. Fratello, ho sentito parlare di te. Dicono che tu non la perdoni a nessuno. Faccio il dover mio, egli rispose i cubo. Non sta bene mangiare a ufo il pane del padrone. Egli cavò fuori l'accetta dalla cintura, si accoccolò per terra e si mise a spaccare la torcia. Non ce l'hai la massaia? gli domandai. No, rispose, e brandì con forza l'accetta. Morta forse? No, sì, è morta, sollunse voltandosi in là. Io t'acqui. Egli alzò gli occhi e mi guardò in faccia. Fuggì con un borghese di passaggio, proferì con un crudere sorriso. La ragazzina abbassò gli occhi. Il bimbo si destò e prese a strillare. La ragazzina si avvicinò alla culla. No, taglielo, disse Biriuk, ficcandole in mano un poppatoio impiastricciato. Ecco, anche lui ha abbandonato, continuò a mezza voce indicando il bambino. Egli andò verso l'uscio, si fermò e si volse. Voi, signore, cominciò, non mangerete certo il nostro pane. E io, dall'infuori di pane, non ho fame. Beh, come volete. Vi avrei preparato il samovar, ma non ho del tè. Vado a vedere che fa la vostra cavalla. Uscì sbattendo la porta. Io mi guardai attorno un'altra volta. L'isba mi parve ancora più malinconica di prima. L'odore amaro del fumo raffreddato mi opprimeva sgradevolmente il respiro. La ragazzina non si muoveva dal suo posto e non alzava gli occhi. Ogni tanto dava una spinta alla culla e riconduceva timidamente sulla spalla la camicia che ne era ascesa. Le sue gambe nude pendevano in mote. Come ti chiami? Domandai. Ulita, dissella, chinando ancor più il suo mesto visino. Il guardaboschi entrò e sedette sulla panca. «Il temporale sta passando», osservò dopo un breve silenzio. «Se lo comandate, vi accompagnerò fuori del bosco». Mi alzai. Birucche prese il fucile ed esaminò il focone. «A che ti serve?» domandai. «Nel bosco fanno bricconate». «Presso quebili rivier stanno tagliando un albero», soggiunse in risposta al mio sguardo interrogativo. «Ma di qui si sente?» «Di fuori si sente!» Uscimmo insieme. La pioggia era cessata. In lontananza si pigiavano ancora grevi ammassi di nuvole. Di tanto in tanto balenavano alcuni lampi. Ma sopra le nostre teste si scorgeva qua e là il cielo azzurro cupo. Delle stellucce palpitavano attraverso le nubi rade che si spostavano veloci. I contorni degli alberi, spruzzati dalla pioggia e agitati dal vento, cominciavano a sporgere dalla tenebra. Ci mettemmo in ascolto. In guardaboschi si tolse il berretto e si chinò verso terra. «Eh, ecco», disse ad un tratto e stese il braccio. «Veh, che nottatina è andato a scegliere?» Io non sentivo nulla, fuorché lo stormire delle fronde. Biriuk condusse la cavalla fuori dalla tettoia. «Ma così», soggiunse ad alta voce, «c'è il caso che me lo lasci scappare». «Verrò con te, vuoi?» «Va bene», egli rispose e fece tornare indietro la cavalla, a ritroso. «Lo coglieremo in un amen e poi vi accompagnerò. Andiamo». Ci avviamo, Biriuk davanti e Dio dietro a lui. Dio lo sa come riconoscesse la strada. Ma egli si fermava solo ogni tanto e unicamente per porgere l'ascolto ai colpi dell'accetta. «Ecco», borbottò tra i denti. «Sentite? Sentite?» «Ma dove?» Biriuk crollava le spalle. «Ci calammo nel burrone. Il vento cicchietò un istante. Al mio udito lunsero nettamente dei colpi cadenzati». Biriuk mi lanciò un'occhiata e scosse la testa. Proseguimmo oltre, in mezzo alle felci bagnate e alle ortiche. Risonò un sordo scroscio prolungato. «L'ha battuto», mormorò Biriuk. Intanto il cielo continuava a schiarire. Nel bosco c'era appena appena un barlume di luce. «Aspettate qui», mi sbigliò il guardaboschi. Che sì che no, e alzato in sul fucile, scomparve fra i cespugli. Io lo ascoltai in uno stato di tensione. Attraverso il continuo rumore del vento mi pareva di percepire non distante dei deboli suoni. Una zetta picchiava guardinga sui rami. Nelle ruote cicolavano. Un sonò ad un tratto la voce ferrea di Biriuk. Un'altra voce gridò, lamentosa, simile allo squittio di una lepre. Incominciò una lotta. «Vaie, vaie», ripeteva ansando Biriuk. «Non mi scappi». Io mi gettai in direzione del rumore e accorsi, incestificando ad ogni passo sul luogo della lotta. Presso l'albero abbattuto, in terra si dimenava il guardaboschi. Egli teneva il ladro sotto di sé. E con la cintura gli regava le mani dietro il dorso. Mi avvicinai. Biriuk si alzò e mise l'uomo in piedi. Vidi un contadino fradicio, incensi, con una lunga barba arruffata. Un misero cavalluccio, per metà coperto di una ruvida stuoia, stava lì accanto, insieme col traino. Il guardaboschi non diceva una parola. Il contadino pure stava zitto e non faceva che scuotere il capo. «Lascialo andare», mi sbigliai in un orecchio a Biriuk. «Per l'albero pagherò io». Biriuk, in silenzio, prese il cavallo per il ciuffo, con la sinistra. Con la destra teneva il ladro per la cintola. «Su, muoviti, cornacchia», disse ruvidamente. «Prendete l'accetta, eccola lì», borbottò il contadino. «Perché dovrebbe andare perduta», disse il guardaboschi e raccolse l'accetta. «Ci avviamo, io camminavo dietro». La pioggia aveva ripreso a cadere e ben presto venne giù a torrenti. «Raggiunremmo a stento l'isba». Biriuk abbandonò il cavalluccio catturato in mezzo all'aia, condusse il contadino nella stanza, gli allentò il nodo della cintura e lo fece cadere in un angolo. La bambina, che stava abisolandosi accanto alla stufa, balzò su e si mise a guardarci con muto spavento. Io sedetti sulla panca. «Ah, che annaffiata», osservò il guardaboschi. «Vi toccherà aspettare». «Non volete riposarvi un po'? Grazie». «Per quanto riguarda signoria, io lo avrei rinchiuso nel ripostiglio», continuò egli indicando il contadino. «Ma il chiavistello, vedete?» «Laccialo star lì, non lo toccare, interruppi». Il contadino mi guardò di sotto in su. Dentro di me mi ero dato parola di liberare ad ogni costo il poveretto. Egli sedeva immobile sulla panca. Alla luce della lanterna potei esaminare il suo viso smunto, raggrinzito e sopracciglia gialle sporgenti, gli occhi inquieti, le membra scarne. La ragazzina si coricò per terra, proprio vicino alle sue gambe, e si riaddormentò. Viriuk era seduto vicino alla tavola, con la testa poggiata sulle mani. Un grillo strideva in un cantuccio. La pioggia batteva sul tetto e scivolava giù per le finestre. «Tacevamo tutti». «Foma Kuzmic», prese a dire d'un tratto il contadino con voce solda e spezzata. «Uffo, ma Kuzmic!» «Che vuoi?» «Lasciami andare». Viriuk non rispose. «Lasciami andare!» «È stata la fame! Lasciami andare!» «Vi conosco», replicò intorno a cupo ai guardaboschi. «Tutti così nel vostro villaggio. Un ladro sopra l'altro». «Lasciami andare», ripeteva il contadino. «E' fattore!» «Siamo rovinati del tutto!» «Lasciami andare!» «Rovinati! Nessuno deve rubare!» «Lasciami andare!» «Foma Kuzmic!» «Non mi finire del tutto!» «Il vostro! Lo sai pure! Mi mangerà vivo! Di sicuro!» Viriuk si voltò. Il contadino era colto da tramiti come se avessera febbre. Egli scrollava le spalle e respirava sbalzi. «Lasciami andare!» a dire con malinconica disperazione. «Lasciami andare! In nome di Dio! Lasciami!» «Pagherò! Di sicuro!» «Quanto è vero Dio!» «Quanto è vero Dio! È stata la fame!» «I piccini frignano! Anche tu lo sai! È un duro arrabbattarsi!» «Tu però non andare a rubare!» «Il mio cavalluccio!» continuò il contadino. «Il mio cavalluccio! Almeno quello! Non ho che una bestia! Lasciami andare!» «Non si può!» «Vi dico! Anch'io dipendo da altri! Mi chiederanno il conto! E con voi non bisogna avere indulgenza!» «Lasciami libero!» «È stato il bisogno!» Fumacuzmic! «Il bisogno! Davvero! Lasciami!» «Vi conosco!» «Lasciami andare!» «Uè! Ma che stiamo a ragionare!» «Stattene quieto! Se no, sai...» «Non vedi che c'è quel signore!» Il poveraccio chinò il capo. Viriuk sbadigliò e appoggiò la testa sulla tavola. La pioggia continuava a cadere. Io aspettavo ciò che sarebbe accaduto. D'improvviso il contadino si raddrizzò. I suoi occhi si accesero e la faccia gli si arrossò. «Su! Via! Mangiami! Su! Strozzami! Su!» Cominciò egli stringendo gli occhi e abbassando gli angoli delle labbra. «Su! Maledetto assassino! Bevi il sangue cristiano! Bevi!» Il guardaboschi si voltò. «Dico a te! A te! Asiatico! Bevitore di sangue! A te!» «Ei ubriaco, forse! O ti salta in mente di ingiuriare?» disse con stupore il guardaboschi. «Ei uscito di cervello, eh? Ubriaco! Col tuo denaro, forse! Assassino maledetto! Belva! Belva! Belva!» «Ei tu! Guarda che ti concio io! Che me ne fa, rovinato per rovinato! Dove andrò senza il cavallo? Ammazzami e che sia finita! O per fame o così è tutt'uno! Periscano tutti! Mogli e figli crepino tutti! E in quanto a te, aspetta! Se ne vedremo!» Beluc si sollevò. «Batti! Batti!» ripresi il contadino con voce furiosa. «Batti! Su! Su! Batti!» La bambina balzò in fretta su da terra e lo guardò fisso. «Batti! Batti!» «Zitto!» tornò il guardaboschi e fece due passi. «Basta! Basta! Fumà!» gridai. «Lascialo stare! Dio sia con lui!» «Non starò zitto!» continuò il disgraziato. «Crepare per crepare? Tant'è! Tu sei un assassino! Una belva! Te il malanno non ti coglie!» «Aspetta! La durerai un pezzo con le tue arie!» «Ti tireranno il collo! Aspetta!» Biruc lo afferrò per una spalla. Io mi gettai in soccorso del contadino. «Non mi toccate, signore!» mi chiedò il guardaboschi. «Io non avrei avuto paura della sua minaccia e avevo già steso il braccio, ma con mia estrema sorpresa egli, un sol tratto, svolse la cintura dai gomiti del contadino. Lo prese per il bavero, gli calcò il berretto sugli occhi, spalancò l'uscio e lo spinse fuori. «Vattene al diavolo col tuo cavallo!» gli gridò dietro. «Ma vada! Un'altra volta io...» Egli tornò nell'isba e si mise a frugacchiare in un canto. «Ebbene, Biruc, dissi io infine, hai fatto meravigliare. Vedo che sei un gran bravo giovane. Ah, lasciate andare, signore!» mi interruppe egli con dispetto. «Favorite solo di non dirlo a nessuno!» «Ma ora è meglio che vi accompagni, soggiuse. Non potete mica aspettare che finisca la pioggia!» Fuori strepitarono le ruote della carretta del contadino. «Beh, se l'è svignata!» mormorò egli. «Ma stia accorto!» Diria a mezz'ora gli salutava sul margine del bosco. «Altretto sfini giuke il secondo mandato». «Ma stia accorto!» Ava, grazie a tutti!